Il gruppo preferito, cioè la Zeppelin, e se mi indovinate almeno 4 titoli, tra quelle che ci saranno, vi ringrazio. Ciao! Ciao! La chiacchia è russa, parola! Dai, dai, Sara! Molto bene! Cosa bisogna fare adesso? Scusate! Come ti trovi? Bene, vedo benissimo. Sei contenta? Sì. Erika, te? Sì, sei contenta. Sei contenta? Sì. Cosa mangi di buono adesso? Arosto. Wow. Sara? Tutto posto? Dai. Giulia? È tutto buono? Sì, questo. È tutto. E qui ta? Dai, trova l'altro unedaro. È tutto buono? È tutto buono? È tutto buono? Diretato Sare Ok Io giuro a parte commentato E allora chi ha vinto? Chi ha vinto Giulia? Sara Cornia Esatto, Sara Cornia, ecco Siamo d'accordo tutti? Sì Dai Siamo qua ad accogliere i nostri ragazzi Le nostre ragazze, siamo tutte donne Adesso andiamo a recuperare altre due donne che ci aspettano in paese E cominciamo questa avventura Sì, ci siamo il nostro percorso d'arte Siamo qua felici di accogliere questo gruppo di donne Grandi anni, Trivaliante, AXA, Monte Chiara e Candice Gran bel primo piano il cavallo è installato noi il cavallo dovremmo andare in un altro posto vai a vedere il presepe Giulia Giulia vai a vedere il presepe le calze di Babbo Natale qua siamo per andare nel piccolo dei gatti una ceramica, guarda dove mi sono nascosta uno qua, uno lì, uno lì, uno lì sopra mancano delle cose, guarda mancano due bambini mancano due bambini che faceva il gelato con l'anese qui invece è un pranzo di nozze perché qui dentro è una cantina tutta in sasso insomma una volta non è che andavano ristoranti e qua ci sono sempre lo scoccare delle ore passa il tempo vanno in un'altra oltre posteria dicono no, anche qua non c'è po' io non lo facciamo, che deve nascere questo bambino e allora vanno lentamente avanti sopra l'asinello Maria sempre più stanca sempre alla ricerca di un posto dove va a nascere il suo bambino mi mandiamo a questo signore più antichi di Tolè, del 1300 circa palazzo Beatrice Sapore si vede il contimento si, però è una delle case più antiche di Tolè questo è un babbo natale che vedete che è un po' particolare perché babbo natale di solito è tutto vestito di panto invece questo c'ha i pantaloncini corti e le ciabatte in fredd dovete vi ispirarmi, dovete guardare è un babbo natale vestito e anche le tavole anche le tavole con gli animali avete messo nella anche quelle esatto, le fatte delle ghiunti era la fatta delle castagne esatto, la fatta per la casetta dove escono dei personaggi magici si E presto? Sara, com'è questo pomeriggio con le nostre amiche di Fontechiara? Bello! Mi piace Erika? Giulia! Hai fatto merenda! Sei contenta? La Silvia non c'è neanche bisogno di chiedere. Mi regia che meraviglia questa cioccolata! Una meraviglia! Ma lo vogliamo fare un applauso a Mirella! Certo! Grazie Mirella! Facciamo anche cin cin, certo! Dopo questo freddo e la passeggiata ci stavano anche a vede! Cin cin! Cin cin! Aia! Aia! Ciao! Buona parte! Placi e la pace! Ok Aspetta che c'è la goccia Giulia togli la grana! Guarda Giulia è sempre pittura! Pagni la goccia! Brava! Giulia!! e adesso dirò che diamo ciao ciao avete anche i palloncini eccola lì ciao Giulia eccoci qua ecco qua ecco anche Sara eccoci qua